E' un Roberto Fico molto politico, quello presente ieri a Salerno in occasione della presentazione del libro di Stefano Fassina. Il mestiere della politica, Sud Giovani, Lavoro Regionali 2025, sono gli argomenti al centro del suo intervento. Ma c'è da farsi qualche domanda, non tanto sulla questione delle province in sé, ma sulla questione della visione che il Paese ha del Sud e degli investimenti che devono essere fatti qua. Io credo che noi nel nostro Sud dobbiamo creare un lavoro, un lavoro di qualità, un lavoro che dia reddito alle nuove generazioni proprio per non fare andare via tutte queste persone, anche perché sono persone che noi formiamo nelle nostre meravigliose università e che non possono poi andare a spendere la loro vita da un'altra parte nonostante li abbiamo formati noi, è un controsenso. Quindi noi dobbiamo fare molto di più per far sì che il Paese possa investire chiaramente negli asset strategici del Sud Italia. La mia posizione è contraria all'autonomia differenziata, così come la voluta e scritta Calderoli. Infatti proprio domani inizierò un tour che si chiama Verso Sud contro l'autonomia differenziata e partirò dalla Calabria. Farò tre giorni con tante tappe, tanti cittadini, tanti parlamentari e consiglieri. Ultima battuta, regionale 2025. Regionale 2025. Il Movimento ci lavora, ha un programma importante e noi sentiamo grande la responsabilità anche per il voto che abbiamo avuto alle nazionali in questa regione e nella città di Napoli, quindi ci lavoriamo. Accetterebbe la candidatura Presidente della Regione? È così lontana, sono così lontane queste elezioni. Grazie. Grazie. Grazie.